La Presidente, buongiorno a tutti i partecipanti a questa riunione con la comunità imprenditoriale italiana in Cina, abbiamo i rappresentanti di una comunità estremamente qualificata che va dal nord al sud, sono particolarmente felice che oggi abbiamo potuto raggiungere anche i rappresentanti della comunità di Hong Kong che è grande e ugualmente qualificata. La ringrazio molto per l'indirizzo di saluto che vorrà dare a questo gruppo di connazionali che opera naturalmente per lo sviluppo delle nostre relazioni economiche in una fase particolarmente impegnativa, ma sono assolutamente all'altenza di fabbolo. Io ringrazio l'Ambasciatore per aver promosso e organizzato questo incontro ed è un piacere incontrarvi insieme al Vice Ministro degli Esteri. Questa mia seconda visita di Stato avviene a poca distanza dalla visita qui dalla Presidente del Consiglio Meloni ed è del tutto inconsueto un accoppiamento di visite così ravvicinato tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio del nostro Paese, segno delle intensità delle relazioni che intendiamo sviluppare con questo grande Paese. E in questa chiave, in questo ambito, gli incontri e i colloqui che ho avuto a Pechino con il Presidente Xi Jinping, con il Primo Ministro, con il Presidente dell'Assemblea del Popolo, ma soprattutto con il Presidente Xi, hanno messo a fuoco questo intendimento, questo desiderio, questa volontà di intensificare ulteriormente gli eccellenti rapporti bilaterali. I siti archeologici sommersi della Sicilia saranno accessibili anche ai subacquei non vedenti. Lo prevede l'accordo siglato tra la Soprintendenza del Mare e l'Associazione Pugliese, Albatros Progetto Paolo Pinto. Il progetto, che si svilupperà nei prossimi tre anni, contempla numerose iniziative per lo sviluppo di un'accessibilità completa e indipendente dei siti. L'adeguamento degli itinerari archeologici subacquei, creati dalla Soprintendenza del Mare nei fondali siciliani, anche per le persone con disabilità visiva è una delle nostre priorità, dichiara l'assessore regionale e i beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. È in cantiere anche un progetto per formare istruttori e guide presso i centri di immersione siciliani, in modo da favorire questo particolare settore turistico, una realtà già esistente in altre parti d'Italia e che la Sicilia vuole accogliere adeguando parte dei suoi percorsi culturali, sia nella tipologia di fruizione sia con la partecipazione attiva di guide adeguatamente formate. Sarà l'occasione per standardizzare alcune delle procedure già sperimentate in alcune esperienze effettuate nei fondali pugliesi e nel lago di Bolsena, dice il soprintendente del Mare Ferdinando Maurici. Per la fruizione degli itinerari sommersi siciliani è in programma la realizzazione della stampa in 3D di modelli dei siti subacquei, da utilizzare nel corso dei briefing pre-immersione al fine di consentire ai subacquei non vedenti di toccare con mano i reperti che troveranno sott'acqua. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di complesse attività d'indagine coordinate dalla Procura della Repubblica Etnea, hanno dato esecuzione, nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valencia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto degli omologhi Comandi Provinciali nonché deli Gruppo Etneo, a un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto l'applicazione di Misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti a vario titolo indagati, unitamente ad altre 14 persone, per associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l'utilizzo di FOI nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Sulla scorta del medesimo provvedimento cautelare, i finanziari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania hanno eseguito anche il sequestro preventivo di 28 società commerciali coinvolte nella frode fiscale nonché di disponibilità finanziarie, di beni mobili ed immobili riconducibili ai principali indagati per un valore complessivo di oltre 8,2 milioni di euro. Una brillante attività, quella di un carabiniere libero dal servizio, collaborato dai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante, che ha portato all'arresto di un ventenne catanese, pregiudicato per reati in materia di droga, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il maresciallo si trovava in via Firenze, proprio nei pressi del tribunale di Catania, quando la sua attenzione è stata catturata dagli strani movimenti del ventenne che, alla guida di uno scooter, il militare dell'arma, ha immediatamente intuito che si trattava di uno scambio di droga. L'investigatore ha subito chiamato la centrale operativa per richiedere rinforzi, mentre continuava a pedinare il giovane sospetto, che si era già allontanato con il suo scooter. Giunto in via Vittorio Emanuele Orlando, il ventenne si è poi fermato di nuovo per un'altra consegna. Il pusher ha poi incontrato una donna che come probabilmente aveva già fatto molte altre volte. Gli ha passato senza esitazione una banconota da 20 euro in cambio di una bustina di marijuana. Il maresciallo davanti a quest'ultima scena è intervenuto velocemente, afferrando la bustina e qualificandosi, lasciando entrambi sorpresi e per un attimo confusi. Il ventenne ha abbandonato lo scooter e lanciato un borsello sotto un'auto parcheggiata, tentando poi la fuga a piedi. La corsa, però, ha avuto termine in via Firenze dove il malvivente è stato raggiunto e bloccato dal sottofficiale dell'arma, grazie anche all'arrivo dei colleghi del nucleo operativo. Il giovane bloccato è stato subito perquisito e, all'interno del borsello, i carabinieri hanno trovato ben 38 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto nonché la somma di 80 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane pusher è stato giudicato dall'autorità giudiziaria accorrito direttissimo e sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Catania. I militari della tenenza di Mascaluccia, con il supporto del personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, hanno eseguito una serie di accertamenti mirati a contrastare gli abusi edilizi. In questo contesto l'attenzione dei militari si è concentrata su un cantiere per la costruzione di tre villette a schiera. Le indagini hanno portato alla luce una serie di irregolarità nelle costruzioni, che presentavano difformità rispetto ai progetti presentati per l'ottenimento delle concessioni edilizie. Nel dettaglio, i carabinieri e i tecnici comunali hanno accertato la presenza di una scala esterna e un'altezza dei soffitti ben superiore a quella autorizzata. Tali abusi edilizi avrebbero permesso al costruttore di vendere gli immobili a un prezzo superiore, grazie alla cubatura extra e alla possibilità di rendere indipendente ogni unità abitativa grazie alla scala esterna. Di fronte a questi abusi, gli investigatori hanno denunciato all'autorità giudiziaria sia il proprietario delle strutture, un 44enne di Nicolosi, sia il titolare della ditta appaltatrice dei lavori, un uomo di 49 anni, insieme al capo cantiere di 37 anni e all'ingegnere 64enne direttore dei lavori, tutti residenti a Mascaluccia. Al loro carico è stata ipotizzata la responsabilità per variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, in concorso tra loro. Inoltre, i carabinieri hanno proceduto al sequestro delle villette. Razzismo in campo a Santa Teresa di Riva durante una partita. Da Spu a un tifoso punto nel secondo tempo. Un giocatore della squadra di casa è stato bersaglio di insulti a sfondo razzista da alcuni tifosi della squadra avversaria. In segno di protesta, il giocatore ha abbandonato il campo, seguito dai compagni, provocando la sospensione anticipata dell'incontro da parte dell'arbitro. La divisione anticrimine della questura di Messina, con il supporto del comando Stazione Carabinieri di Santa Teresa di Riva, ha esaminato l'accaduto. Il questore di Messina, Annino Gargano, ha emesso un daspo della durata di due anni nei confronti di uno dei tifosi responsabili degli insulti. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 13 novembre di Globus Television. Mercoledì la pressione è bassa sulla Sicilia, ma giornata con tempo in prevalenza asciutto, cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Non sono attese precipitazioni. Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni stazionari. Grazie a tutti.